Ciao! Come state? Era tanto che non caricavo un video perché purtroppo sono andata male però adesso sto un pochino meglio e ho deciso di registrarvi subito un nuovo show and then perché mi è stato richiesto molte volte allora oggi vi mostrerò un po' di creme per il viso che sto usando in questo periodo alcune le ho usate ma adesso non le sto usando più e poi vi spiegherò anche il motivo allora innanzitutto vorrei partire mostrandovi queste due creme che sono quella da giorno e quella da notte sono entrambe della CN o GN non lo so come si dice esattamente e le ho comprate al supermercato Lidl e sono assolutamente low cost infatti mi sembra costino sui 3 euro e 80 all'uno non mi farò sbagliare comunque costano poco queste sono assolutamente consigliatissime ma intanto facciamo come al solito un po' di tapping per rilassarvi non mi farò sbagliare Grazie a tutti. Allora, inizio con il mostrarvi questa qui, che è la crema da giorno. Allora, la confezione è così. Questo qui è un pezzettino che si chiude. E come potete vedere, in bianca, con le scritte in rosa, molto molto carina. Allora, c'è scritto crema protettiva 24 ore. Allora, all'interno è fatta così. Allora, come potete vedere, il packaging è molto molto semplice, con un barattolino bianco e una striscia di carta attaccata, in cui appunto c'è scritta la marca e il nome della crema. Crema è 24 ore. Sopra il tappo è appunto fucsia, quindi riprende anche il colore della scritta. Molto molto carino. Il contenuto è 50 ml, quindi è una crema assolutamente normale. All'interno, eccola qui, scusate, è usata ovviamente, perché la uso tutti i giorni. È un colore bianco che dà leggermente su rosa. Eccola qui, la vado a mettere. Eccola qui. La profumazione è molto molto buona. È una classica crema, insomma. E non ha un odore particolare, non è aromatizzata con nulla. Allora, che cosa dirvi? Innanzitutto, nella straconsiglio, perché nella confezione qua sopra, vedete, c'è scritto proprio che è privati alle minerali. All'interno, c'è l'acido ianuronico e l'acido e il pantenolo, scusatemi. Eccolo qui, come volete vedere. Ma comunque, a prescindere dall'inci, che è sicuramente ottimo e quindi sotto questo punto di vista è straconsigliata. Io volevo sottolineare e la consiglio assolutamente a tutte le persone che hanno una pelle secca, perché se avete una pelle grassa, non credo che questa sia molto adatta a voi. Dopo magari ve ne consiglio una per la pelle grassa che ho provato perché questa qui è una crema molto molto nutriente, molto compatta. Quindi se avete la pelle grassa, temo che il rischio di appesantirla ancora di più sia molto consistente. Invece, se come me, avete una pelle secca, soprattutto in questo periodo d'inverno, con il freddo, quindi con il vetto, tende a screvolarsi. Questa crema è perfetta. Ne basta mettere assolutamente pochissima, una quantità veramente minima. Bisogna appena appena bagnare il dito. E si stende benissimo. Non ne mettete troppo perché altrimenti fa molta molta fatica ad assucarsi. Lasso un po' la scia bianca e ci mette troppo tempo, però se ne mettete poca si stende tranquillamente e è veramente veramente ottima. Quindi ve la straconsiglio. E li metto all'interno della sua confezione. Ecco qui. Adesso vi faccio vedere questa qui, che è la crema notte. È sempre della CNGN, quindi la potete sempre acquistare a Lidl. Il prezzo è lo stesso, quindi sempre anche questa sui 3,80 euro. Questa qui è una crema da notte ed è consigliata per le pelli un po' più mature e infatti proprio si chiama crema notte antirughe e appunto ha un'azione antirughe, però io la uso ugualmente perché mi ci trovo molto molto bene. Anche questa è da 50 ml e la confezione esterna si presenta appunto così, col blu. Eccola qui. crema notte antirughe con il coenzima con 10. Quindi è un'azione assolutamente antirughe, antissiratta. Eccola qui. Quindi è un'azione assolutamente antirughe, 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 antirughe. Allora, la andiamo ad aprire. Eccola qui. All'interno è esattamente come l'altra, solo che è di colore blu. Infatti vedete il tappo che è blu e anche il cartoncino è blu. anche qui c'è scritto crema notte antirughe, 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 antirughe. Allora, anche questa qui è una crema estremamente nutriente, quindi diciamo è sconsigliata per le pelli grasse, però per chi ha la pelle secca è assolutamente il top consigliatissimo. Anche di questa ne basta veramente una quantità minima. E ora vi faccio vedere dentro. Eccola. Questa appare un pochino più giallognola. Appare un pochino più giallognola rispetto all'altra che era più sorrosato. E ecco, ne basta proprio una quantità minima. La spalmate bene sul viso prima di andare a dormire e la pelle è veramente molto 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 idratata. Quindi assolutamente super super consigliata. Poi il fatto che abbia un'azione antirughe è vero che può essere buono per chi magari ha un'età avanzata e quindi magari già ha delle rughe abbastanza evidenti e non vuole peggiorare la situazione. Però anche per chi ha una pelle comunque giovane che non ha tante rughe come per esempio nel mio caso va comunque bene perché innanzitutto va a ricompattare un pochino le rughe preesistenti e poi evita la formazione di altre. Quindi io la consiglio assolutamente. E poi contiene appunto il coenzima Q10, l'acido ialluronico e la vitamina E. Quindi ha un potentissimo azione aggessitante. Come sapete anche la pelle è un pochino rovinata. Sta veramente perfetta. Allora veniamo adesso alla crema per le pelli grasse che vi avevo detto prima ed è esattamente questa qui. Ve lo faccio vedere. Eccola qui. È una crema della Neobio e io l'ho comprata sul sito BioVeganShop e magari se volete vi lascio anche il link c'è nella info box. Anche questa è il prezzo, ora non mi ricordo precisamente, ma comunque costava veramente poco. Mi sembra intorno ai 4-5 euro. e anche questa il contenuto è 50 ml. Eccola qui. Allora la caratteristica di questo sito BioVeganShop è appunto avere prodotti tutti biologici e quindi sicuramente dal punto di vista dell'inci è perfetta. Infatti ve lo faccio vedere se riesco. Sì, magari non so. Così. non si vede benissimo, comunque fidatemi. E io l'ho presa perché come avevo letto prometteva un'idratazione 24 ore. Però devo dire che non mi ci sono trovata granché perché purtroppo è una crema che secca moltissimo la pelle. Quindi io che già ce l'ho secca sicuramente l'ho già trovato grazie a giovamento. però se avete una pelle anche un punto grassa e comunque tendente al grasso o tendente ad essere unta ok? Questa qui è perfetta. È una crema da giorno e come potete vedere anche qui assolutamente priva di siliconi non so non tanto adesso che c'è scritto neopio credo sia un marchio tedesco non lo so comunque si presenta dentro a questo tubicino di plastica e questa qui anche non ne dovete mettere tantissima un pochino di più rispetto a quelle altre perché la consistenza è diversa però un problemino di questa crema è che tende a lasciare un pochino l'alone bianco vedete lascia un pochino l'alone bianco quindi fa un attimo più fatica ad assorbirsi nonostante ciò non è così nutriente come le altre infatti questa cosa mi ha lasciato molto molto sorpresa non me l'aspettavo io l'avevo comprata appunto sperando una crema nutriente buona quindi in realtà non mi ci sono trovata neanche infatti al momento non la sto usando sto usando le altre due della sienne ecco adesso si è asciugata bene ecco qui adesso ve ne faccio vedere un'altra questa qui non è una crema né da giorno né da notte è una crema che io uso come base per il viso ed è la crema della essence della collezione my skin ed è la mattifying cream questa crema è diciamo si prevista l'obiettivo di lasciare la pelle con un effetto matt quindi eliminare ogni lucidità dalla pelle anche questa ha un linci molto molto buono ve lo faccio vedere non so se riesce ad inquadrarlo bene comunque poi sul sito della essence se volete andare a vedere sono riportati tutti i linci e tutto quanto quindi assolutamente non ci avete nessun problema a rientracciare i linci dei prodotti essence allora questa qui appunto come vi dicevo è una crema opasizzante e io la metto prima di truccarmi proprio per evitare l'effetto lucido magari del fondotinta che spesso potrebbe lasciare quindi o per evitare stando prima questa e poi mentre il fondotinta l'assorbimento è molto rapido e anche di questa ne dovete mettere poca veramente veramente poca la quantità è sempre 50 ml e si trova all'interno di questo fraconcino di plastica eccolo qui eccolo qui è una azione che è applicata eccolo qui la profumazione di questa è molto molto buona assolutamente consigliatissima buona 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 sono odori molto buoni e l'effetto ecco magari sulla mano non si vede però io vi assicuro che messa come base di trucco l'effetto opacizzante si nota parecchio ecco io noto la differenza tra quando metto questa crema con il fondotinta e quando non la metto magari uso un altro primer e poi metto il fondotinta l'effetto è molto molto lucido quindi anche questa qui assolutamente consigliatissima ve la faccio vedere della Essence il costo anche di questa è assolutamente minimo ora non mi ricordo precisamente ma comunque anche questa qui sta attorno ai 3 euro è assolutamente economica un po' come tutti i prodotti della Essence ecco so che prima aveva un altro package in questa crema e da quello che dicono le persone che la usavano prima con il vecchio package aveva anche una formulazione diversa che era addirittura migliore di questa però io non ve lo so dire perché non l'ho provata quella di prima ho provato solamente questa ma io mi trovo molto bene pure con questa quindi anche questa è assolutamente consigliata e mi metto nella sua confezione a a a a a Grazie. 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 Spero di avervi fatto compagnia. Spero di avervi fatto rilassare. Vi mando un grosso abbaso. Ci vediamo presto. Ciao.